Il Governo per favore. Liberiamo i banchi del Governo per favore, se no chiedo agli assistenti parlamentari di farli liberare. Per favore, nessuna fotografia in aula. Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione per appello nominale sulla mozione di fiducia a Duva e Molteni numero 1-0-0-0-0-6. Presenti 621, votanti 586, astenuti 35, maggioranza 294, hanno votato sì 350, hanno votato no 236. La Camera approva. Grazie.